ciao ciao a tutti amici ciao youtube benvenuti in video ripetizioni oggi vi voglio parlare delle principali differenze fra ubuntu 13.04 detto anche rearing ring tail o rearing ring tail in pronuncia italianizzata alla vostra sinistra con la signorina che ci sorride non vi distraete e ubuntu 12.10 la versione precedente tuttora valida alla vostra destra con le nuvole per capirci quella azzurra bene prima di passare alla parte grafica che comunque ci vediamo le caratteristiche del sistema operativo e del kernel quindi apriamoci il nostro terminal basta scriviamo terminal sia a sinistra dalla signorina che a destra dalle nuvole ok con il comando un aim spazio meno r sia a destra che a sinistra spazio meno r possiamo subito vedere che la differenza principale è sul kernel in ubuntu 13.04 rearing ring tail è il kernel 3.8.0 15 mentre in ubuntu 12.10 è il kernel 3.5.0 trattino 18 quindi abbiamo fatto un notevole passo avanti molto un kernel nuovo se facciamo x maiuscola attenzione spazio meno version sia su ubuntu 13 che su ubuntu 12 possiamo andarci a vedere le differenze in maniera più approfondita possiamo vedere che la data di rilascio di ubuntu 13 nel caso nostro una daily build perché più di un mese che ce lo stiamo studiando e approfondendo è stata rilasciata il 7 marzo del 2013 mentre ubuntu 12.10 era stata rilasciata la versione ufficiale il 5 settembre del 2012 la build del sistema operativo per ubuntu 13 alla vostra sinistra era 3.2.0 37 mentre per ubuntu 3.3 12.10 è la 3.20 26 e come abbiamo detto il kernel è diverso benissimo quindi viste un po le caratteristiche tecniche andiamo a vederci un po la grafica chiudiamo entrambi terminal e possiamo notare sicuramente sempre alla vostra sinistra dove c'è la signorina per capirci possiamo vedere l'icona della dash che ha un vortice quindi è cambiato un po la grafica dell'icona della dash ha un vortice intorno rispetto a quella precedente che era meno stondata se ce l'andiamo aprire cancelliamoci la scritta terminal se ci andiamo aprire la dash in ubuntu 13 e ci andiamo aprire la dash in ubuntu 12.10 possiamo notare sempre alla vostra sinistra alcune iconcine che sono leggermente cambiate ovvero l'icona dell'applicazione dove qui c'è una a mentre in ubuntu 12 c'era un'altra iconcina la cosa più interessante sono i video in ubuntu 13 la possibilità di non solo cercarci video all'interno del nostro computer nel nostro calcolatore ma addirittura cercarli e scaricarceli online ad esempio se cerchiamo video ripetizione vedete online ci trova tutte le nostre video ripetizioni su linux mint sulla rivoluzione russa e chi più ne ha più ne metta quindi oltre a le differenze grafiche sicuramente notevoli più carine permette anche ubuntu rearing ring tail 13.04 di visualizzare cercare e scaricarci video online non solo all'interno del nostro computer bene detto ciò chiudiamoci le applicazioni video sia in ubuntu nuovo che in ubuntu vecchio possiamo notare sicuramente la differente icona per l'home ford ovvero questo clicchiamocelo sia in ubuntu 13 che alla vostra destra in ubuntu 12 vecchia versione al di là dell'icona che è cambiata se ci pensate cambia anche la versione infatti guardate se andiamo su files in ubuntu 13.04 about possiamo vedere che il gestore di file si chiama proprio files e della versione 3.6.3 mentre in ubuntu 12.10 se andiamo sempre su help e about possiamo vedere che il gestore dei file prima precedente si chiamava nautilus ed era la versione 3.4.2 bene dato che sono due gestori di file differenti che cosa cambia sicuramente in ubuntu 13 cambia la modalità di visualizzazione delle icone vedete possiamo vederle come una lista come una griglia oppure possiamo anche lavorare sulle icone con un zoom in ovvero caro ubuntu 13.04 me le ingrandisci oppure me le rimpiccolisci zoom out me le mette a dimensione normale possiamo ordinarle per nome per dimensione e chi più ne ha più ne metta inoltre mentre in ubuntu 12.10 l'icona search era questa qua c'è la lente in ubuntu 13.04 c'è una lente comunque hanno la stessa funzionalità ok chiudiamoci il gestore di file si è un punto 13 ecco la signorina che torna che in ubuntu 14 a proposito della signorina una cosa interessante è la gestione dei workspace torniamo in ubuntu 12.10 vi ricordate che avevamo quattro workspace cioè abbiamo tuttora quattro workspace vedete con lo workspace switcher ovvero il cambio di workspace abbiamo quattro spazi di lavoro differenti vedete uno due tre quattro e possiamo aggiungerne tanti se cercate la stessa cosa in ubuntu 13.04 non lo trovate non è che è stato tolto è stato diciamo disattivato di default ma lo possiamo riattivare con tre semplici click guardate basta andare sulla rotellina ovvero system settings impostazioni di sistema appearance che non è apparenza ma è aspetto andiamo su behavior ovvero comportamento vedete qua in basso a sinistra c'è enable workspaces ovvero abilitaci i nostri workspace e come per magia in basso a sinistra abbiamo i nostri tre workspace bene ora abbiamo quattro signorine prima ne avevamo una sola siete contenti al di là dello scherzo possiamo anche aggiungere una desktop icon che cos'è la desktop icon eccola qua basta cliccarci questa è una novità in ubuntu 13.04 è l'iconcina che ci permette di andare direttamente al nostro desktop ed eccolo qua infatti proviamo a chiudere ecco qua che con questi semplici click abbiamo attivato quattro workspace differenti e l'iconcina per andare al nostro desktop o con il plugin compits che vi illustrerò nelle prossime che vi illustrerò nelle prossime video ripetizioni quindi iscrivetevi al nostro canale scegliere quattro differenti wallpaper ovvero quattro differenti sfondi per tutti i nostri workspaces quindi ci daremo un'occhiata più avanti iscrivetevi al nostro canale altra caratteristica interessante è l'airplane mode che cos'è l'airplane mode basta che andiamo su rete ovvero possiamo o cercare network ok facciamo la stessa cosa in ubuntu 12.10 eccolo qua l'apparenza sembrano uguali se guardate alla destra di ubuntu 13.04 appare questo airplane mode che può essere attivato on o disattivato off è tipo la modalità aeroplano del telefonino ovvero se stiamo in aereo o più frequente non vogliamo essere connessi ad internet senza disattivare il nostro wifi possiamo mettere airplane mode on o off quindi se non vi funziona la vostra connessione internet andate dalla dash su network e vedete se avete attivato prima di tutto il wireless come prima in ubuntu 12.10 ma anche di avere l'airplane mode off ovvero avere attivate tutte le vostre connessioni bene chiudiamoci le nostre connessioni di rete e da non sottovalutare alla versione di libro office vediamo chi fa prima fa ubuntu 13.04 la vostra sinistra ubuntu 12.10 la vostra destra sono arrivati i primi tutte e due a pari merito possiamo vedere che in ubuntu 13.04 da help about libro office abbiamo l'ultimissima versione di libro office la 4.0.1.2 mentre in nell'ubuntu precedente 12.10 avevamo abbiamo tuttora la versione 3.6.2.2 quindi nuova versione di libro office la 4 andiamo a vederci intanto che chiudiamo libro office sia a destra che a sinistra andiamo a vederci le versioni di firefox del nostro browser quindi in ubuntu 13.04 alla vostra sinistra vediamo che è montata la versione di firefox l'ultimissima 19.0.2 mentre in ubuntu 12.10 c'era di default la versione 17 di firefox tuttavia aggiornabile quindi non vi preoccupate chiudiamo i vari firefox last but not least come dicono gli inglesi ovvero non meno importante sono le icone di spegnimento vi ricordate sempre in alto a destra potevate spegnervi il vostro shutdown il vostro linux ubuntu 12.10 ci chiedeva sei sicuro di voler chiudere tutti i programmi e spengere il computer si di qua ovvero di qua si intende alla vostra sinistra è un po più carino perché quando premete shutdown come vedete potete scegliere se spengerlo simbolo spengimento o restart eccolo qua quindi amici grazie molte per l'ascolto vi invito a iscrivervi con ubuntu 13.04 al nostro canale youtube alla vostra sinistra mentre con ubuntu 12.10 vi invito a iscrivervi al nostro sito internet scherzi a parte spero che il confronto fra le due versioni di linux sia stato di vostro gradimento vi ringrazio molto per l'ascolto vi invito a iscrivervi al nostro canale youtube alla nostra pagina facebook twitter ci trovate su tutti i social media come video ripetizioni e vi ringrazio di nuovo per l'ascolto e vi auguro un ottima una magnifica giornata ciao a tutti ciao youtube